La prima volta che ero in Maungurugu, c'erano molte persone stanno sull'altra strada. Quindi ho stoppito e ho chiesto ciò che hanno bisogno. E poi, dopo un'ora, sono tornato con un po' di comida. E quando ho aperto la porta del mio bus, tutti stavano fuori, con le mani aperte. E hanno preso le cose che ho portato. Ma, ovviamente, ciò che ho portato non è sufficiente per tutti. E, in quel momento, ho sentito poco. Quindi, durante la creazione di questo reportaggio, ho cercato di non concentrare molto sulle faces delle persone, con l'interesse di non banalizzare il loro dolore. e, anche perché, come per me, sono un cittadino western. È difficile da guardare le loro guardie. Grazie. 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 Grazie.